Il mercato tra gli interni continua ad animare. Soprattutto per quanto riguarda la situazione legata a Lazar Samarzic. Dopo aver chiuso il colpo di Carlos Augustus in effetti. I nerazzurri hanno trovato le resistenze del giocatore del giocatore per quanto riguarda le commissioni e gli impegni. La storia è sulla buona risoluzione dell'accordo ma come riportato da TMW Oggi sembra esserci un nuovo ottimismo. Inter Market La situazione samarzizza le richieste Samarzic che ieri attraverso l'agente papà avevano chiesto un impegno di 2,3 milioni anziché 1,5. Sembrano essersi abbassati nuovo. Il calciatore vuole firmare con i nerazzurri e anche il padre sembra essersi convinto a ritirare la richiesta di una richiesta ulteriori 300 mila euro di commissioni. Udinese ha già fatto sapere al calciatore che vuole assolutamente rispettare l'impegno previsto con l'Inter. Se il trasferimento è incredibilmente saltando. Samarzic non sarebbe stato venduto a nessun'altra squadra che rimane almeno per un altro anno. In Friuli